Cosa hanno detto Cody Rhodes e Seth Rollins a Raw, rivolgendosi a The Rock e a Roman Reigns? Adesso ve lo racconto, voi però lasciate un like, un mi piace al video e ricordatevi di seguire il canale, se ancora non lo state facendo. Allora, l'American Nightmare è il primo ad entrare nel quadrato e dice San Antonio, di cosa volete parlare? Mi piacerebbe, se potessimo farlo, di come a WrestleMania 40 nel main event, là dove le luci brillano di più, nel momento più importante dell'anno, io mi troverò dinnanzi al più grande campione nella storia della federazione, il capo tribù Roman Reigns, Tuttavia, non posso discutere di quello a causa di una distrazione, una distrazione che prude parecchio, e sto ovviamente alludendo a The Rock. Sette giorni fa, The Rock ha pubblicato su Instagram un video di 16 minuti, poi l'ha cancellato, e cinque minuti dopo ci ha benedetti con una versione estesa di 21 minuti. Successivamente, a SmackDown ha parlato ancora, e vi riassumo il suo pensiero, vi ha definiti dei fattoni, e ha parlato del mio cane, e The Rock, non farlo mai più. E ovviamente, eccoci poi alla grande notizia, anche se lui l'ha nascosta bene, e cioè che non ha accettato la mia sfida per un match singolo. No, 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 The Rock, con eloquenza, ha rigirato la frittata, ha cambiato conversazione, e ha proposto qualcosa di diverso, davvero politico qual è. Non a caso, in tanti, volevano che ti candidassi, Rock, e io forse avrei votato per te. E non posso smentire totalmente le tue parole, perché è vero, abbiamo parlato, hai detto la verità, ma hai messo del miele nelle mie orecchie, dicendomi che la gente non voleva Cody Rhodes contro Roman Reigns. Fallo per il popolo, che non desidera te contro Roman, ma bensì me contro di lui. Ma poi, ecco un imprevisto. Voi avete dimostrato il contrario. Lo so, i dirigenti WWE vi hanno sentito, e io ovviamente vi ringrazio. Eppure, The Rock l'ha sentito, e ha iniziato a chiamarvi i piangina. C'è qui qualche piangina, per caso? E ora, The Rock ha proposto uno scenario totalmente diverso, che non coinvolge solo me, uno che implica anche il mio amico. Sì, credo che lo siamo. E credo che ora mi debba raggiungere. Signore e signori, il campione del mondo. Il fottuto Seth Rollins. Ed eccolo, Seth che arriva, tra l'altro campione per 282 giorni, e subito saluta l'arena. San Antonio, benvenuti a Monday Night Rollins. E signor Nightmare, a cosa stai pensando, amico mio? E Cody riprende. Ovviamente tu ti sei offerto di guardarmi le spalle contro la bloodline, ed eri al mio fianco quando ho preso uno schiaffo. Eri lì, malgrado un ginocchio in disordine, e mi hai detto che ci saresti stato anche in futuro. Ma ora la situazione è cambiata. Io non pensavo di essere a Vrestalmenia, sino a che non ho visto quella stupida grafica relativa a come la famiglia di The Rock e di Roman fosse migliore di tutte le altre. E lì ho deciso che dovevo cambiare le cose, e rimangiarmi la parola data. Era un mio diritto. Ho vinto la rissa reale. Dovevo sfidare Roman Reigns. E tu? Tu, tornando dall'infortunio, avresti dovuto vedertela con l'unico altro che mi ha schienato, oltre a Roman, Drew McIntyre. Dunque, quello che sto dicendo, e che dico di modo che tutto il mondo lo senta, è che The Rock e Roman Reigns insieme sono due Vrestler da Monte Rushmore. e lo capirei se tu volessi focalizzarti solo su Drew, senza dovermi più guardare le spalle. E queste parole un po' seccano. Seth Rollins che replica. Rispetto che tu mi abbia dato una via d'uscita. Ma ci penserò io a Drew McIntyre, ok? E a lui, ho detto, sette giorni fa, ho detto a te e al mondo intero, che ci sono cose più grandi di noi. E distruggere la bloodline è la più importante che possiamo fare. Perché non è solo la tua storia che deve finire a Vrestalmenia, Cody. C'è pure la mia. Dieci anni fa, io e Roman Reigns siamo arrivati qui insieme e sognavamo il potere che sta al top. E io ora lo voglio per restituirlo alla gente. Roman Reigns desidera invece tenerlo per sé stesso. E c'è un problema, un problema, perché con The Rock nella bloodline siamo così vicini ad un Roman Reigns dal potere assoluto. E The Rock, amico mio, non so voi e non so cosa ne pensi tu, ma per me hai superato il limite. Il pubblico inizia a cantare Rocky fai schifo. E Seth Rollins ne approfitta e dice sì sì sì, fa davvero schifo. E non era The Rock da un bel pezzo e sicuramente non era il campione del popolo da una vita. Dunque, credo che non meriti più di essere chiamato così. E ci ho pensato durante la settimana e ho dei nuovi nomi per lui. Iniziamo provando questo. Potremmo chiamarlo che ne dite di Diarrea Wayne? Diarrea Wayne perché parla sempre e quello che gli esce dalla bocca ha la consistenza di una cagata molto diluita. Sì, ora The Rock fa il gradasso, ma non so. Intanto, Cori, Diarrea, Diarrea. Beh, sembra che San Antonio sia d'accordo con me. The Rock ha parlato su Instagram per 21 minuti, ma siamo seri? E ha avuto il coraggio di insultare il tuo cane e di dire che può fare in modo che questa cintura, la mia, prenda il volo. Ha detto che schioccando le dita, visto che è il mio capo, può fare tutto ciò che vuole. Beh, Rock, ti invito a provarci. E non so se l'avete sentito, 21 minuti da dare a quell'idiota, sono tanti, ma ha aggiunto che ha di nuovo reso figo il wrestling. Oh sì, The Rock. The Rock è un messia, ci ha salvati, ci ha reso fighi. Diarrea Dwayne, non so se lo sai, ma non sei più figo da vent'anni, amico. Ma ti dico io cosa lo è. Questa mattina ho ricevuto il totale via libera medico. Sono tornato e sono pronto all'azione e tra pochi giorni sarò a Smackdown per confrontarmi con la Bloodline. E voglio sapere, Cody, ti chiedo, ti chiedo dopo avertelo detto per settimane, amico, io ti coprirò le spalle in questa guerra e c'è una cosa che mi devi dire. Se tu coprirai le mie. E Cody dice, wow, per rispondere alla tua domanda, anch'io ho un messaggio per The Rock. Rock, è passato molto tempo dall'ultima volta nella quale ti è stato dato qualcosa, da quando avevi solo 7 dollari in tasca e ritengo che tu abbia dimenticato che l'essere il campione del popolo non è eterno. E io non sono come te. Non mi lamento per 21 minuti e verrò a SmackDown col fottuto Seth Rollins e starò dritto di fronte a te, a Roman Reigns, all'uomo saggio e all'intera bloodline nel grande stato del Texas. E tra pochi giorni, faccia a faccia, occhi negli occhi, sussurrerò nelle vostre orecchie la mia risposta chiara e ovvia su quello che accadrà a Vrestelmania. Insomma, il patto sembra sancito. Seth Rollins è sulla stessa barca di Cody e soprattutto è guarito. L'infortunio è rientrato. Ora è abile e arruolato al 100%. E Cody ha parlato di risposta chiara e ovvia. E quindi lo scenario che li riguarda a Vrestelmania sembra essere quasi del tutto ormai definito. Manca solo l'ufficialità che probabilmente avremo a SmackDown. E ora dopo che vi ho raccontato tutto la palla passa nel vostro campo. Lasciate un like al video, seguite il canale e soprattutto con dita roventi ditemi cosa ne avete pensato di questo scambio di battute e fatelo qui sotto nello spazio a voi dedicato. a voi a voi a voi a voi Grazie.